Riccardo Piacentini dal Bacicalupo al Chittolina, poco più di due chilometri, una nuova avventura in questo campionato di Serie D, soddisfatto di questa scelta, c'è un bel progetto alla base di questa società? Molto soddisfatto, direi sì, estremamente soddisfatto perché comunque, come ha detto in precedenza il Presidente, vado all'avanguardia per quanto riguarda le strutture, c'è un progetto molto serio, siamo penso all'inizio di questo progetto qua, io sono nel pieno degli anni e sono stracontento della chiamata e strafelice di iniziare. Una stagione abbastanza difficile a Savona, dovuta soprattutto agli infortuni, la speranza è quella di rivedere il Piacentini in versione al Bissola, che aveva fatto la differenza due anni fa. Sicuramente è stata un'annata travagliata quella di Savona per mille aspetti, in primis quello che hai detto tu, quello degli infortuni, e mi auguro di partire bene perché poi il segreto è quello, insomma, non avere contrattempi e acciacchi fisici inizialmente durante la preparazione, ti permette di partire al meglio. Quindi io mi auguro di poter dare il mio contributo, sono contento della stima che ho ricevuto da parte della società del Vado e sono carico, sono pronto a cominciare. Obiettivo salvezza innanzitutto, ma c'è un gruppo molto importante dello scorso anno che ha vinto il campionato e si sono aggiunti giocatori di categoria che possono davvero dare una mano. No, certamente la squadra c'è, la società ha fatto benissimo secondo me, c'è una squadra, una statura importante come hai detto tu, che risale all'anno scorso, a cui ha detto bene poi il presidente, ha aggiunto diversi pezzi importanti secondo me, ci sono tutti gli ingredienti per fare una gran bella annata. Grazie.